Come si è ammazzato? Come si è ammazzato i genitori perché sono i valori che questa società trasmette, altri che di noi è tutto scritto nei nostri geni, nel nostro destino. In realtà le cose sono un po' più complicate e allo stesso tempo più affascinanti e diciamo che negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 10 anni, 15 anni, con lo sviluppo delle neuroscienze, non solo neuroscienze di cui ho parlato finora, studio il cervello, ma la biologia molecolare, la genetica molecolare, se voi pensate che nel 2001, poi completato nel 2003, è stato decodificato l'intero genoma umano. Che cosa vuol dire decodificare il genoma umano? Vuol dire studiare e rendersi conto di cosa fanno gene dopo gene tutti i geni che noi abbiamo, che non sono poi tantissimi. Come si pensava all'inizio quando questa cosa è cominciata che avremmo avuto almeno 100.000 geni, sempre i numeri magici. In realtà noi abbiamo solo 22.000 geni, ne abbiamo molto meno di molti altri esseri, pensate che un comune frumento arriva ad avere 600.000 geni e quindi ne ha molti più di noi, ne ha 30 volte noi, quindi non è il numero che conta. Ma quello che conta è questo, è che noi non siamo tutti uguali, anzi siamo tutti diversi e molte di queste differenze dipendono proprio dal nostro DNA. Se in questa sala stasera siamo tutti diversi, come siamo, a meno che qualcuno non si sia portato da casa un gemello mozzigote, è perché abbiamo delle differenze del DNA, che talvolta sono differenze pensate anche di una sola lettera. Sapete che il DNA è una stringa di lettere, il codice della vita. Se questa è una parte del codice del DNA di un vostro gene, e questo è quello della persona che vi sta seduta accanto, questa differenza dove voi avete T e la persona AC, vi può spiegare perché qualcuno ha i capelli rossi e qualcuno ha i capelli neri, per esempio, o altre cose. Ma non solo, queste differenze in alcuni geni influenzano molto anche il modo in cui noi interagiamo con l'ambiente, il modo in cui noi sviluppiamo la nostra personalità, la nostra vulnerabilità, le patologie mentali, oltre che patologie organiche, e anche il modo in cui cresciamo e diventiamo poi, ci comportiamo da adulti. Grazie. 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 Grazie.